Buongiorno amici, oggi volevo discutere con voi questo bellissimo lavoro scientifico pubblicato sul New England Journal of Medicine, la più importante rivista medica a livello mondiale. È un lavoro che mette un punto sulla I, finalmente, perché si sentono tante stupidate in giro sul digiuno e su questa idea di consumare tutte le calorie in una finestra temporale ristretta. Allora, il titolo di questo lavoro, vedete, è Color Restriction With and Without Time Restricted Eating in Weight Loss, è uno studio cinese, l'ultimo autore è il dottore Zhang. Quindi, praticamente, questo studio è stato disegnato per rispondere a questo quesito. Mangiare meno calorie, cioè seguire una dieta ipocalorica, con o senza una restrizione temporale di quando queste calorie vengono assunte, ha un effetto additivo, cioè non solo se io mangio di meno, ma queste calorie le mangio in una finestra temporale ridotta, tipo in dieci ore, questo mi dà un effetto supplettivo nel migliorare la mia salute. Voi sapete, e vi farò vedere a breve, un recente studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Science, naturalmente su topolini, non su uomo, che questo sembrerebbe essere la risposta. Ma poi vi spiegherò perché non funziona, perché un topolino non è un uomo. Ripeto, un topolino dal laboratorio non è un uomo. I topolini sono dei modelli sperimentali importanti per generare delle ipotesi, che poi, come ho sempre detto, devono essere confermate in degli studi sull'uomo. Allora, guardiamo intanto i risultati di questo studio. Iniziamo con il disegno. Cosa hanno fatto qui? Hanno preso, hanno reclutato 139 pazienti con obesità e li hanno divisi in due gruppi. Un gruppo doveva mangiare una dieta ipocalorica che consisteva in 1500-1800 calorie negli uomini e 1200-1500 calorie nelle donne. Però questo primo gruppo doveva consumare questa dieta ipocalorica in una finestra temporale ristretta, cioè dalle 8 del mattina alle 4 del pomeriggio. e quindi dalle 4 del pomeriggio fino alle 8 del mattina non dovevano consumare cibo, soltanto bevande non caloriche. Ok? L'altro gruppo, invece, il gruppo di controllo, consumava la stessa dieta ipocalorica, con le stesse calorie, però senza limiti temporali. Poteva consumarle quando gli piaceva e pareva. Quali sono i risultati dello studio? Il risultato dello studio, che vi faccio vedere qui in questa figura, è che tutti e due gli interventi hanno causato una riduzione di circa il 10% del peso corporeo, che poi è rimasto mantenuto nel seconda parte dello studio, quindi nello studio di un anno. Ma vedete che la linea verde e quella viola sono totalmente sovrapponibili, che significa che consumare le calorie in una finestra ridotta non ha nessun effetto sul peso corporeo. E siccome in questo studio hanno anche usato la DEXA per misurare la massa magra e la massa grassa, sappiamo che non c'è nessun effetto neanche sulla massa grassa e la massa magra. E sempre in questo studio hanno fatto una TAC addominale per misurare il grasso viscerale ed epatico e non c'è nessunissima differenza tra i due gruppi in riduzione di grasso viscerale e grasso epatico. Infine, nello studio hanno misurato, vedete, la pressione arteriosa, sistolica e diastolica, hanno misurato il colesterolo, LDL, HDL, trigliceridi, hanno misurato la glicemia digiuno dopo due ore e alcuni marcatori di insulino sensibilità e non c'è nessunissima differenza. Quindi, grazie a Dio, quello che ho sempre pensato è stato dimostrato in uno studio scientifico ben disegnato, pubblicato sulla più importante rivista medica al mondo, che ci dice che quello che è importante è ridurre l'introito calorico e che mangiare queste calorie in una finestra temporale ristretta non ha un effetto additivo, ok? E la restrizione calorica è che conta. Naturalmente, possiamo discutere poi di cosa significa restrizione calorica, perché, come vi ho sempre spiegato, uno può avere restrizione calorica con malnutrizione o restrizione calorica con nutrizione ottimale, cioè con tutte le vitamine, sali minerali, fitocomposti che servono, ok? Ora, perché questo studio è importante? Perché va a sfatare alcuni miti che sono dovuti alla spinta mediatica di alcuni gruppi che, facendo gli esperimenti sul modello animale, sul topolino, o su lieviti, vermi e moscire della frutta, vogliono estrapolare i risultati di questi esperimenti sui modelli animali nell'uomo e quindi, una volta che pubblicano, vi faccio vedere un secondo, vedete questo paper appena fresco-fesco pubblicato in Science, un'altra rivista prestigiosa, in questo paper ci dicono fondamentalmente che i topolini del laboratorio, questo gruppo di topolini black six, vengono chiamati tecnicamente, che vengono sottoposti a un regime di restrizione calorica o a un regime di restrizione calorica con time, restrizione feeling, che mangiano praticamente tutte le calorie in una finestra temporale che sia durante la notte o durante il giorno, tenete conto che i topolini, a differenza degli uomini, mangiano durante la notte e digiunano durante il giorno o perlomeno mangiano di meno durante il giorno e quello che questi ricercatori pubblicano su Science è che gli animali che fanno il 30% di restrizione calorica senza nessuna restrizione temporale del cibo hanno un aumento dell'aspettativa di vita del 10% e anche qui ci sono tantissimi studi che fanno vedere praticamente che un 30% di restrizione calorica nel topolino aumenta la lifespan dal 20 al 30%, quindi anche qui ho dei dubbi sui risultati di questo studio, sulla riproducibilità. E poi invece ci dicono che i topolini invece che facevano praticamente, mangiavano le calorie in un intervallo temporale, cioè durante la notte, avevano un fast durante la notte, hanno un aumento del 35% e quindi ci dicono che un allineamento del consumo delle calorie con i ritmi circadiani che nel topolino appunto sono nella notte hanno un effetto potenziante sull'effetto della restrizione calorica che è totalmente in disaccordo con il paper sul New England che abbiamo appena visto negli uomini non nei topolini. Quindi dici ma allora cosa significa? Come mai ci sono questi studi discordanti? Beh, se posso dire la mia, il motivo è semplice. Il motivo è semplice ed è questo. I topolini, ripeto, sono un modello anionale, ma non sono un uomo. Un topolino in media vive due anni e mezzo. Un uomo in media vive 80 anni. Un topolino ha un metabolismo che è completamente diverso. I topolini non sviluppano aterosclerosi anche se gli diamo una dieta con tanto colesterole o con acidi grassi saturi. I tipi di tumori che sviluppano sono tipicamente diversi dall'uomo. E soprattutto la cosa più importante per chiudere questo discorso è che un topolino ha un metabolismo super, 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 super forte, super accelerato. Tant'è vero che vedete in questo lavoro che abbiamo pubblicato con Dudley Laming e Cara Green quest'anno su Nature Reviews Molecular Cell Biology nella figura tre vede praticamente che noi sappiamo che se voi digiunate, fate digiunare un topolino per più di 48-60 ore, quindi per due giorni, questo muore. I topolini muoiono di fame. Ok? Perché? Perché hanno un metabolismo super accelerato. Mentre anche un essere umano magro o uno che ha un BMI di 21-22 può vivere per 57-73 giorni. Questi sono studi che sono stati fatti. Vivono fin tanto che praticamente perdono fino al 35% del peso. Dopo sopra 35% del peso se uno perde più del 35% muore. nelle persone obese c'è uno studio pubblicato di un uomo che pesava 204 kg e ha consumato soltanto fluidi e vitamine e minerali per 382 giorni perdendo il 61% del suo peso iniziale cioè 126 kg. Quindi quanto una persona può digiunare dipende, un essere umano può digiunare dipende da quanto grasso ha in magazzino di scorta. Quindi una persona come me magra può digiunare una cinquantina, sessantina di giorni. Una persona obesa può arrivare a digiunare un anno. Ok? I topolini che hanno un metabolismo molto più accelerato degli esseri umani invece solo due giorni. A dimostrazione vedete che dopo quattro ore di digiuno c'è un inizio dei corpi chetonici, dei topolini. Voi sapete che il cervello può funzionare, i neuroni possono funzionare soltanto usando il glucosio o i corpi chetonici. Non possono usare i lipidi e le proteine e quindi vedete che quando un topolino digiuna quattro ore iniziano a aumentare e dopo due giorni, dopo ventiquattro ore scusate di digiuno i livelli dei corpi chetonici arrivano a platò, cioè arrivano al massimo. Gli esseri umani invece proprio perché sono differenti dai topolini iniziano a avere un aumento dei corpi chetonici intorno a 16-18 ore da quando iniziano a digiunare, dall'inizio del digiuno e vedete che aumentano a due giorni, però arrivano a platò intorno a 15 giorni, ok? Quindi sono due sistemi completamente diversi e quindi bellissimo lo studio su Science che fa vedere che la restrizione calorica soprattutto quando è allineata con i ritmi circadiani, quindi quando le calorie vengono consumate soltanto durante la notte ha un effetto potenziante sulla salute e la longevità dei topolini, ma non hanno nessuna rilevanza nell'uomo, almeno che una persona, sempre che questo venga dimostrato, non digiuni tre giorni, per tre giorni digiuna, poi per tre giorni mangia, per tre giorni digiuna, per tre giorni mangia, per il resto della sua vita, cosa che io ritengo impossibile, poi ci può anche essere qualche essere umano che sia disposto a praticare questo regime di tre giorni di digiuno e tre giorni di alimentazione a cicli continui per il resto della propria vita, ma questo, di questo parliamo, altrimenti andiamo a confondere le coscienze e vendiamo il messaggio che una persona limitando l'introito calorico a otto, dieci ore della propria giornata può allungare la propria vita e migliorare la propria salute. Per l'amor di Dio, è un messaggio pericoloso e dannoso perché come sempre va a creare queste short cuts, queste semplificazioni estreme della realtà perché come io ho visto negli Stati Uniti queste persone mangiano schifezze per otto ore, si fiondano nel fast food mezz'ora prima che scada la finestra temporale di otto dieci ore si ingozzano di patatine fritte, hamburgers e bevande zuccherate perché nel loro testo perlomeno quello che gli è stato venduto è che consumare il cibo in questa finestra temporale gli permette di vivere più a lungo e di vivere più sani. lo studio su New England che vi ho fatto vedere dimostra che assolutamente quello che è importante è perdere peso indipendentemente dalla finestra temporale perlomeno con queste tempistiche ripeto se uno digiunasse per tre giorni gli effetti sono sicuramente diversi lo sappiamo adesso non ho tempo ad entrare ai dettagli ma è secondo me inattuabile dal punto di vista della vita di tutti i giorni e quindi con questo vi saluto e vi invito a riflettere a non farvi condizionare a usare il cervello in maniera critica a non farvi raggirare dalle notizie e dagli interessi di alcuni gruppi di persone che manipolano i dati per motivi di prestigio di carriera di tante altre cose e diffondono informazioni scorrette perché propongono dati risultati dei dati su topolini come se fossero equivalenti e potessero essere tradotti ed applicati to cure nell'uomo cosa che non è perché come ho spiegato il metabolismo e tutto il funzionamento dell'organismo di un topolino è completamente diverso da quello di un uomo e con questo vi ringrazio e vi saluto alla prossima a Grazie.